Andiamo a sentire se si ricordano la canzone Due Vite di Marco Mengoni tra la Genrazione Z e i Boomer. C'è un libro sul pavimento di una casa vuota. Che sembra la nostra. Persi tra le persone quante parole. Senza mai più una risposta. E ci siamo fottuti ancora una volta dentro il locale. E me lo va male, me lo va male. Se questa è l'ultima canzone che canto perché me caceranno via. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai che non arriva la musica. E tu non dormi e dove sarai, dove vai quando la vita poi esagerà. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti ha. Agita Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite, due vite. Col che ha ciavite, du vide. La nostra Angela Killi tutti i giorni da Sanremo per accantare coloro i quali sono presenti al festival.